Memorizzate questo numero, vai, leggilo tu Angelo, 346-30-649-91, è un numero vero, mio e di Angelo insieme. Voi stasera avete la possibilità di mandarci un messaggio scrivendo il difetto del vostro partner. Sfogatevi e noi li leggeremo. Anche diciamo in dialetto piacentino. Esatto, nel vostro dialetto che fa molto ridere. Questo esperimento funziona nelle date precedenti c'è gente che si sta separando ancora, abbiamo saputo? Ti prendo gli occhiali. Prendimi gli occhiali, stanno già arrivando. Mammone, disordinato e rompiballe, non lava mai il bagno, lascia sempre aperte le ante degli armadietti. Questo è proprio tipico, scusate. Mio marito si taglia le unghie dei piedi con le mani dal divano, le lancia convinto che io non lo veda. Ma cosa fai? Giochi a un 2-3 stella? Il water sempre aperto. E come fa? Non mette la carta igienica nel verso giusto. Scurzon. Cos'è Scurzon? È scorbutico. L'ha scritto lui? Katia. Ride con la lingua di fuori. Com'è ride con la lingua di fuori? All'è un cuion. L'ho letto bene? Sa le arti marziali. All'è un cuion. Scurzon. L'è un grattacù. Fa le puzze e dà la colpa al cane. Mia moglie lascia chiuse le zanzaniere del balcone e io ci passo in mezzo. Oddio che ridere. Grazie a tutti.